la sua scorta il sacrificio di king a cura di vb a che ora esattamente tornò nel suo ufficio gerry non sarebbe stato in grado di dirlo a un certo momento del pomeriggio comunque sbirciò le carte sulla sua scrivania e guardò fuori dall'ampia finestra del secondo piano la sua scorta parcheggiata nel cortile gli dava un senso di potenza eppure quella ragazzina bionda con le gambe lunghe e la pelle color latte gliene dava di più chi era ogni mattina quando lui partiva con la volante dal suo palazzo la ragazzina usciva da una bella casa a piano terra per andare a scuola come si chiamava bah lo avrebbe sicuramente saputo gerry disse alla segretaria di telefonare a un amico magistrato udì la sua voce sono io disse voglio darti il bentornato tutti noi quassù abbiamo sentito la tua mancanza adriana come sta benissimo senti perché non fai un salto da noi stasera disse il magistrato ci farebbe piacere salutarti io ho un sacco di cose da dirti però ti devo parlare a voce gerry senti di nuovo ardere dentro di sé la ragazzina bionda con le gambe lunghe e la pelle color latte posso venire in tribunale adesso chiese al magistrato gerry deposa con violenza il ricevitore uscì dal suo ufficio non attese l'ascensore e discese in fretta le scale entrò nella macchina della scorta e disse alla gente di usare la sirena giunse nel tribunale salì veloce nell'ufficio del magistrato che lo salutò con la mano alzata nella tua vita ci sono anche gli amici disse gerry non soltanto il lavoro io ho bisogno di te faccio quello che posso rispose il magistrato gerry era ansioso vorrei che mi aiutassi disse scendiamo a prendere un caffè ti devo parlare da solo il magistrato prese l'amico per il braccio che succede hai dei problemi dobbiamo agire con gli amici perché c'è una buona occasione per tutti disse gerry il magistrato lo fissò è scritto in isaia le mie vie non sono le vostre disse vuoi dire che ti defili chiese gerry vuol dire che prima voglio sapere offrimi un caffè lo saprai commento alcune sette che essendo tali non hanno nulla di benevolo usano gli ammicamenti religiosi per attrarre il maggior numero di seguaci grazie